Arrivare rilassati a destinazione con il sistema di assistenza Audi alla guida in colonna. L'assistente Audi alla guida in colonna supporta efficacemente il guidatore nelle code e nel traffico intenso tra 0 e 60 km orari di velocità. Una volta attivato il sistema di assistenza alla guida in colonna esplora l'ambiente circostante. Riconosce entro i limiti del sistema i veicoli antistanti nella stessa corsia di marcia o nella corsia vicina, rileva la segnaletica orizzontale e le strutture ai lati della strada. Da queste informazioni il sistema ricava una direzione virtuale e guida l'Audi con interventi sterzanti delicati. Il sistema frena e accelera automaticamente per mantenere la distanza dal veicolo che precede. Grazie alla molteplicità dei parametri considerati il sistema di assistenza alla guida in colonna permette di guidare in modo passato e naturale in situazioni di traffico particolarmente intenso. L'Audi procede in colonna adattando di conseguenza la propria traiettoria. Non appena la coda si dissolve rientrano in funzione l'Adaptive Cruise Control e l'Audi Active Lane Assist. Il sistema di assistenza Audi alla guida in colonna tecnica innovativa al servizio di un maggiore comfort. divenso il sistema di assistenza di perceive Soviets e ti écriviti al�i